Quali sono secondo te i segnali premonitori, cioè nel senso come possiamo accorgerci in qualche maniera che stiamo di fronte a qualcuno dove, un po' per caratteristiche personali, ma che magari ancora non conosciamo così bene, se possiamo capire se ci ritroveremo in qualche maniera in una relazione tossica con quella persona oppure no? Ci sono dei segnali, soprattutto per le relazioni più intime che l'inizio è sempre villiaco e meraviglioso, là un po' ci cadiamo tutti, però ci sono dei segnali a cui possiamo fare attenzione, per esempio se ci accorgiamo che l'altro ha la tendenza a volerci cambiare, partendo anche da cose stupide, quindi per esempio che ogni volta che ci incontriamo mi devi dire qualcosa sul mio vestiario, per esempio, che potrei stare meglio vestita in un altro modo. Facciamo che ci accendiamo, no? Una lampadina da una parte, no? Perché non vado bene così come sono. In generale tutto quello che riguarda un po' il controllo, questo secondo me è la sirena per eccellenza, quindi se ci accorgiamo che l'altro ha bisogno di mantenere un minimo di controllo su di noi, che manca un po' il senso della fiducia, no? Proprio messaggi, dove sei, anche relazioni non per forza intime, hai fatto questa cosa, non l'hai fatta, quindi proprio il controllo, cioè non mi fido che tu in quanto adulto abbia scelto di fare una cosa e la stai facendo bene. La mancanza di rispetto, questo direi che non ci si può e deve passare sopra, dove per me mancanza di rispetto è al primo litigio, vola alla prima offesa, lì vanno subito ristabiliti i giusti piani. E poi direi che è sempre vincente, attenzione a come ci sentiamo, perché io lo dico sempre, la nostra pancia arriva molto prima della nostra testa, no? Cioè noi sentiamo delle cose, a volte non sappiamo neanche dargli bene un significato, ma di sicuro quelli sono un segnale vero, quindi ci sentiamo tristi, arrabbiati, frustrati, ogni volta che incontriamo una persona, fermiamoci un attimo, perché sentiamo quelle emozioni, quelli sono un indicatore. Certo, certo, è interessantissimo questo aspetto di come restare anche agganciati alla nostra consapevolezza quando incontriamo l'altro, quindi restare sempre consapevoli dell'altro, ma anche in ascolto di noi stessi, no? Sembra proprio essere un elemento fondamentale per comprendere chi abbiamo di fronte, soprattutto come noi, che impatto ha su di noi. Esatto, direi che è l'unico modo con cui possiamo realmente proteggersi, quindi una volta ci proteggiamo in maniera assurda, no? Che era, non esco, non faccio, non è questo, secondo me possiamo fare tutto nel momento in cui siamo in pieno contatto con noi, no? Perché se io sono in una situazione in cui sento subito che c'è qualcosa che non va, se io mi ascolto e utilizzo quello che sento, ne esco, o metto un confine, quindi direi che è l'unica cosa da fare. Grazie.